Monica Guerritore oggi presente a Verissimo di Silvia Toffarin 24 aprile 2021 racconta della sua vita privata partendo proprio dalle fondamenta una biografia ricca di successi ricca di cose belle che le sono capitate però anche di cose brutte infatti ha raccontato di avere avuto purtroppo un tumore al seno ma la forza di volontà la tenacia e la grinta non le mancano ed è andata avanti nonostante le grandi difficoltà che la vita le ha messo davanti e a tutte le donne la stessa guerritore avrebbe detto proprio di non avere paura non abbiate paura è un grido di riviscita un grido di rivalsa quello che manda Monica Guerritore oggi 24 aprile 2021 a Verissimo di Silvia Toffarin facendo sapere alle donne che bisogna andare avanti bisogna lottare bisogna essere forti dentro forti fuori non demoralizzarsi mai e soprattutto cercare di vivere sempre ogni momento cercando di essere forte perché la vita è fatta di cose brutte ma anche di cose belle bisogna solamente cercare di vedere anche e soprattutto quelle belle di cose che la vita ci riserva forte e tenace in gamba volitiva in gamba ti ripeto una donna insomma determinata più che mai tenace che vuole far sì che tutte le donne che magari hanno purtroppo un tumore riescano a farcela e soprattutto combattirò non si scoraggirò e vada avanti mangiandosi la vita a mossichi e a bocconi bene vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi al canale complimenti alla bellissima Monica Guerritore fatemi sapere cosa ne pensate datemi le vostre opinioni ci tengono a averle ps questo video non vuole lei delle praiosi di Monica Guerritore ma solo informare eventuali persone grazie al prossimo video una buona serata a voi